I ragazzi hanno lavorato, abbiamo provato a fare qualcosa in più rispetto alla normalità perché questa squadra ha bisogno di mettersi anche a posto dal punto di vista fisico visto che i problemi che ci sono stati in passato e che ci sono ancora abbiamo giocatori che sono a 50%, giocatori che hanno recuperato da poco come Spano che sarà convocato, non sappiamo ancora quanto tempo c'è nelle gambe però abbiamo provato a portarci dentro tutti anche perché abbiamo due assenze come quella del capitano e quella di Olivera abbiamo lavorato, questa è la cosa più importante i ragazzi sono stati disponibili ma d'altronde questo è un gruppo che è sempre stato disponibile adesso c'è la partita la capolista ha dei valori importanti, ha tanti punti, li ha meritati tutti è organizzata, io l'ho vista giocare dal Vipo una volta ha raggiunto in gamba, una buona squadra però noi dobbiamo pensare a fare punti perché noi abbiamo bisogno di punti per chiudere il discorso salvezza perché ancora siamo dentro paradossalmente io avevo molta paura della partita di Troina perché veniva in un momento difficile per la squadra oggi ho meno paura perché so che la squadra mentalmente è pronta per affrontare la prima in classifica e quindi gli stimoli vengono da soli è chiaro che ho molto rispetto per la Gelbison però in questo momento ho tanto rispetto anche per i miei giocatori spero solo che riescano a dare in campo quello che vogliono e quello che hanno dentro ma chiederò il solito impegno, la benegazione ho chiesto a qualcuno di far un sacrificio in più e i ragazzi sono disponibili a questo poi è chiaro che c'è il campo che determina tutto però i ragazzi sono a posto ma i tifosi ho poco da dire quando sono tornato ho chiesto sostegno ce lo stanno dando il sostegno chiedo solo questo noi quest'anno è stato un anno sofferente per tutti per i tifosi perché amano la squadra per chi ci lavora ve lo posso garantire che è stato un anno di sofferenza perché ci sono state troppe cose strane troppe cose particolari però fa parte del calcio quindi spero che con l'impegno domani della partita dei ragazzi e spero anche con un risultato importante contro una squadra prima in classifica a meno di un piccolo sollievo ai tifosi che sono stati sempre presenti sono venuti anche a portici a sostenerci io ho poco da chiedere ho solo sostegno e amore verso i colori perché poi fra 15 giorni fici il campionato e poi tutto il resto chi vivrà vedrà grazie a tutti 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 grazie a tutti